Hai libri scolastici vecchi o rovinati e non sai cosa farci? Ciao, io sono Letizia, creativa del canale Vivi con Letizia dove puoi trovare tantissimi progetti di riciclo creativo, fai da te e trucchetti per casa. È finita la scuola e ci siamo ritrovate con tantissimi libri vecchi oppure troppo rovinati anche per poterli rivendere. Piuttosto che buttarli ho deciso di riutilizzarli. Quindi nel video tutorial di oggi ti mostro come riutilizzare in modo creativo dei vecchi libri di scuola. Se ti piace uno tutorial come questo ti consiglio di iscriverti adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella per non perderti nessuno dei prossimi video. Se invece questo video non ti piace lasciami pure la tua critica costruttiva nei commenti. Ora passiamo al tutorial, continua a guardare! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!